il 20 e il 21 mi raccomando non prendete impegni siamo tutti a roma per italia 5 stelle parleremo del movimento 5 stelle di quello che ha fatto di quello che fa e di quello che farà ma con una novità adesso siamo al governo potremmo quindi parlare delle azioni che stiamo mettendo in campo e di quelle che metteremo in campo per un futuro per un'italia migliore sapete tutti che il movimento 5 stelle non vive di finanziamenti pubblici quindi mi raccomando una piccola anzi una piccolissima donazione può fare la differenza e ci può aiutare per creare questa straordinaria festa alla quale siete tutti invitati a partecipare 20 e 21 di ottobre circo massimo roma ciao